Te l'ho detto, ti ripagherò. Sono passati tre mesi, Andrea. Tre mesi. So che sei una mia amica e che non mi vuoi ferire, ma... Per favore, ora ridami quel denaro. Ma perché sei così melodrammatica? Io melodrammatica. Fingi sempre di promuovere la pace, ma in realtà mi le son mosse. Mi hai lasciato in una situazione orribile. Sto per perdere l'appartamento e anche il lavoro. E che fine ha fatto il fondo fiduciario? Vuoi che chiami i tuoi genitori e hai bisogno? Mi devi 57.000 dollari. Ma che ti credi di essere? Ti ho detto che avrei risolto. Siete tutti molto stupidi. E miopi. Così banali. Voi non sapete cosa significa creare qualcosa? Smettila, Anna. Smettila e dici la verità. Io sto creando qualcosa che diventerà iconico. E tu mi disturbi per la tua carta di credito. Hai idea di quante cose ho in mente in questo momento? Ho in affitto un intero edificio del cazzo a Park Avenue. Non ho in affitto un burro to un park. Perché è già stato affittato. Questo non è vero. E invece sì. C'è scritto qui. È una fake news. Anna. Fa il culo! Voi non avete idea di cosa significhi per me. Io sono un capo. Sto cercando di costruire una fondazione e sono circondata da un gruppo di dilettanti. Ti prego, non fare così. Io sto facendo tutto il possibile. Pensi che abbia tempo da perdere con questa storia?